Ciao a tutti e ben tornati sul canale di Lario Armines. Oggi siamo fuori Armines, compagnia di Lario. Abbiamo degli iscriviti dell'associazione. L'avrete sicuramente visto dei video dedicati alla cucina. Oggi faremo un altro video sui nodi, tra quelli che sono presenti anche all'esame di patente nati, che è indicato come essenziale, ma lo vedremo dopo la sigla. Mentre ci godiamo questa polina, anche se il sole ci sta facendo un po' di scherzetti, andiamo a vedere il nodo piano, che come dicevo è uno dei nodi essenziali. È indicato come uno dei nodi di giunzione, è utilizzato solo in caso in cui le due scime siano dello stesso diametro. Tutto usato per i gerli, quindi diamo la mano ai terzeroli e dobbiamo comunque fissare la randa al buono. Adesso andiamo a vedere l'esecuzione. Prendiamo i due capi della cima, andiamo a incrociare sopra, facciamo una volta intorno. Poi il solito che è passato per primo sopra all'altro corrente lo faremo ripassare nuovamente per primo sopra in un altro incrocio. Entriamo dentro e tiriamo. Il nodo piano è fatto. Lo vediamo un'altra volta. Sopra, intorno, sopra, dentro e tiriamo. Bene, abbiamo visto il nodo e come sempre vi ricordo di mettere un bel like se il video vi è piaciuto, di continuare a seguirci su tutti i nostri canali social e di iscrivervi al canale anche perché nelle prossime puntate vedremo altri nodi di giunzione. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti da parte mia anche. Alla prossima. Alla prossima.